Ben trovati, torna la rubrica Tg60 Salute. Iniziamo questa nuova stagione avendo qua come ospite il Dottor Beppino Montalti, Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Pistoia che è proprio con l'Ordine dei Medici che noi curiamo questa rubrica. Iniziamo facendo un po' il punto della situazione che ci ha visto così coinvolti in quest'ultimo anno e quindi appunto la situazione del coronavirus dalla quale si spera di essere un po' fuori, siamo un po' fuori o no? O è una percezione magari sbagliata che rischia di indurci a comportamenti sbagliati? Insomma ci dica lei a che punto siamo. Innanzitutto grazie a voi e buongiorno ai telespettatori. Direi che oggi le notizie, proprio quelle dei dati di questa mattina, sia rivolte riguardanti il nostro ospedale, che i dati nazionali sono in netto miglioramento, sia per quanto riguarda l'RT che è un indice di infettività e c'è poi il rapporto fra i tamponi fatti e quelli positivi. La curva è buona, stiamo vedendo dei buoni risultati. Viene da domandarci perché sta accadendo questo. Allora il vaccino funziona? Questa è la risposta più evidente che deve tranquillizzare quelli che avevano affrontato questa fase con timore, con paura. Il vaccino funziona, il vaccino si è dimostrato sicuro e quindi noi dobbiamo procedere in questo senso. Come Italia abbiamo avuto anche complimenti dallo scienziato Fauci americano, il quale ha apprezzato il lavoro fatto dall'Italia. Con errori che abbiamo fatto, soprattutto nell'aspetto comunicativo di questi dati, con forse troppi esperti che facevano spettacolo in tante trasmissioni e forse in questi casi qui conviene sempre parlare molto meno ed essere più precisi. Comunque questo noi poi come Federazione Nazionale degli Ordini abbiamo fatto una campagna per quanto riguarda la vaccinazione, il senso lato e abbiamo visto, ci sono delle immagini che noi non conosciamo più la difterite ed il vaiolo, che sono state sconfitte grazie alla vaccinazione. Questo è stato un merito innegabile e oggi non se ne ragiona più in questo problema. Abbiamo visto al contrario esempi come il medico inglese famoso Andrew Wakefield che aveva pubblicato su Lancet, una rivista prestigiosa, un lavoro sulla correlazione fra la vaccinazione, con i tre vaccini poliomilite, morbillo e rosolia, con l'autismo. L'aveva messo in relazione all'autismo e sapete è una malattia che colpisce i bambini, i giovani ed è una malattia… Con numeri crescenti. Esatto, numeri crescenti anche perché abbiamo mezzi diagnostici più precoci. prima davamo scarsa importanza a questi fatti. Ecco, questo lavoro che poi è stato smascherato come un lavoro fraudolento perché si era inventato questi dati… Quindi volontariamente fraudolento. Volontariamente in connessione con studi legali che facevano poi le cause contro queste case che avevano fatto i vaccini. È stato espulso da quello che è un English Medicine Council che sarebbe l'ordine dei medici inglese corrispondente. È stato espulso ed è stato condannato perché in questi 20 casi aveva fatto delle indagini prelievo di liquor spinale in maniera incongrua e non corrispondente a quelli che erano i principi etici di ricerca. E nonostante questo, questi lavori sono stati ancora oggi richiamati dal movimento Novavax a dimostrazione della potenzialità del danno del vaccino. Ecco, quindi veramente qui siamo fuori dal mondo… Veramente c'è stata una diffusione di false notizie che però hanno avuto grande presa, hanno trovato terreno fertile. Che pensa che alcuni giudici anche in Italia, su questo lavoro del medico inglese, hanno fatto delle sentenze dove richiedevano un danno per l'autismo di alcuni… Secondo i periti che avevano assistito questi giudici questo era il meccanismo. Questo è un meccanismo che è falso, che è proprio dimostrato in maniera… poi questo è stato radiato, è stato processato per queste cose, quindi è fuori discussione che questo è stato veramente una bufala, una delle prime bufale. Sul vaccino anti-Covid poi ci sono anche delle narrazioni del tipo, sì ma è stato fatto in maniera troppo rapido e quindi siamo tutte cavie, io non voglio essere una cavia, quindi per ora io non mi vaccino. Il problema è questo, che è la prima volta nella storia della medicina che un vaccino viene preparato e usato durante una pandemia, che non era mai accaduto questo. Quindi è chiaro che quei periodi in cui un vaccino, come qualunque farmaco, viene sperimentato per nelle varie fasi, una, due, tre, per avere… Che sono di genere sequenziali, no? Sequenziali e sono fatti su una popolazione… ovviamente quanto più allarghi il campione, tanto più l'indagine è costosa. Quindi qui avevamo non un problema di costi, ma un problema di tempi per poter utilizzare il vaccino e quindi queste fasi sono state contratti, ma sono state effettuate regolarmente. E la dimostrazione è che il danno, abbiamo visto che il vaccino è sicuro, mano a mano che noi stiamo andando avanti… Con milioni di persone vaccinate che… Si sono vaccinate e che hanno avuto… Che può dare qualunque farmaco e quindi… Gestibile. …peramente controllabili e quindi su questo siamo assolutamente tranquilli. Poi abbiamo visto che anche questa tecnica dei vaccini a mRNA, che è un'innovazione nella storia della vaccinazione, in realtà poi non è una terapia genica. Anche questa è un'altra bufala. Ah già. Perché non introducono niente nel nostro patrimonio, è solo un vettore della proteina che noi abbiamo scelto per vaccinare le persone che devono entrare a contatto con le nostre cellule. Esatto. Quindi questo è il meccanismo. Ci sono altri vaccini che usano… Che hanno lo stesso meccanismo. Un adenovirus che è il vettore, però questo non autorizza a definirla come una terapia genica. Quindi questo è assolutamente infondato e non ci sono aspetti, fermo restando questo meccanismo, per cui l'altra bufala è quella chissà cosa succederà negli anni, non succederà nulla come non è successo con la difterite o come è successo con il vaiolo e con quest'altro vaccino. La poliomilite anche quella fu un momento drammatico. Ci ricordavamo che c'erano interi ospedali pieni con le macchine di rianimazione in cui venivano inseriti questi ragazzi che avevano avuto una paralisi dei muscoli respiratori e che se non stavano nel polmone artificiale andavano in contramorte. Quindi questa è la storia, il passato che devono essere ricordati oggi in questo momento importante in cui vediamo la luce alla fine del tunnel. Fermo restando che questo non vuol dire che con la vaccinazione tutto è finito. Il coronavirus è una malattia, è un'infezione pericolosa e quindi dovremo comportarci con attenzione per quanto riguarda sia i contatti, quindi mascherine, distanziamento eccetera. Però avete visto oggi la notizia che sia i cinema sia i teatri riprenderanno al 100% della capienza, gli stadi al 75%, le discoteche al 50% se ha il chiuso. È un segnale molto importante che ci fa capire che non siamo arrivati in fondo ma che il proseguo, la famosa terza ondata che si temeva con le scuole, con la riapertura delle scuole è in realtà rimasta lì ferma e bloccata probabilmente, anzi secondo me sicuramente dagli effetti della vaccinazione. Ecco, spesso chi accampa scuse per non vaccinarsi tra gli argomenti anche che in qualche modo non crede a quello che la scienza racconta, i numeri sono falsi, c'è tutto un po' una manovra. Ecco, c'è un video che invece noi vogliamo far vedere, che è un video fatto a casa nostra con un volto noto che quotidianamente sperimenta quello che accade nell'ospedale che è responsabile della terapia intensiva dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, quindi non siamo andati a cercare chissà chi, chissà dove, da dove viene, chissà con quale storia, quindi ha una storia locale e quindi facilmente lo incontriamo anche per strada, quindi non ci racconta Pandoni, ci racconta quello che accade. È membro del Consiglio dell'Ordine dei Medici, quindi non… Quindi, persona che ci racconta quello che sperimenta quotidianamente. Quello che ha visto lui. Quello che ha visto quotidianamente nel nostro ospedale. Ve lo facciamo vedere perché secondo me è molto efficace e insomma fa una fotografia che toglie qualunque dubbio. Lo facciamo vedere. Parlare di coronavirus a distanza di un anno e mezzo dall'inizio della pandemia per alcuni di voi potrà sembrare come riguardare il solito film, magari con qualche piccola variazione. Come responsabile della terapia intensiva dell'ospedale di Pistoia, credo che sia il caso di ripercorrere il sentiero che ci ha portato a fine stasi 2021 in modo da poter trarre alcune considerazioni personali. Chi mi ha visto lavorare sa l'importanza che io do alla libera scelta, quindi questo non sarà il solito invito alla vaccinazione. Non perché io non ne riconosca l'importanza, attenzione, ma perché vedo e sento persone credere in qualsiasi cosa, purché sia alternativa. E allora diventa importante condividere con voi dati reali che appartengono al nostro territorio per poter dare delle risposte concrete. La maggior parte degli ammalati che abbiamo intubato ed è purtroppo deceduta nel nostro ospedale non aveva ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Tanti di loro non avevano fatto in tempo, avevano posticipato l'appuntamento per la vaccinazione per svariate ragioni, finché il virus non li ha trovati impreparati. Altri invece credevano non avrebbero avuto un decorso severo se avessero contratto l'infezione. Ebbene, hanno dato un vantaggio al coronavirus. Alcuni hanno avuto una prognosi in fausta anche senza altri fattori di rischio. Per fortuna, dal mese di luglio in Italia a Pistoia c'è stata una tregua. L'ospedale Saiacopo sta valentamente e faticosamente riacquisendo i ritmi di lavoro di quasi normalità. Abbiamo ricominciato a dare grande supporto alla chirurgia oncologica, potendo assistere con l'adeguata serenità tutte le condizioni cliniche bisognose del nostro intervento. Ma i ricoveri causati dal covid sono ritornati a premere. È sin dagli inizi di agosto, periodo in cui abbiamo dovuto garantire assistenza a 124 persone affette da covid, di cui 10 in terapia intensiva. In tante persone mi chiedono previsioni. Personalmente credo che con il tempo ci avviteremo a considerare il covid come un'infezione pericolosa, ma che forse con alcuni accorgimenti non lo sarà più di tante altre che ci affliggono. Il primo di tutti, continuate ad essere prudenti. I numeri parlano, possiamo credere a questi numeri che ci dicono che l'evidenza è che chi in qualche modo aveva rimandato. Sono persone che non hanno secondi fini, che hanno dato la loro opera professionale con momenti di sconforto, con momenti anche di dramma personale di cui dobbiamo avere rispetto e sulla cui onestà non ci piove, come si direbbe. Quello che dispiace è che non si debba dare fiducia a questi dati ufficiali e si debba dare fiducia a questi sistemi che debbano essere alternativi per principio. Non esiste questo qui, nella scienza l'alternatività non è un obbligo. Se si arriva a dimostrare che anche un atteggiamento alternativo, un medicinale alternativo, un trattamento alternativo sono validi con il metodo scientifico che è quello che ci appartiene, che ci ha insegnato Galileo Galilei, quello dell'evidenza. Se questo è così possiamo anche poi perseguire quella lì. Ma finché non c'è questa dimostrazione non possiamo lasciare questa strada che è fondamentale. Allora, con l'invito di non abbassare la guardia comunque, noi ricominciamo questo nostro percorso di Tg60 Salute parlando di anche tutto il resto del mondo della medicina. Continueremo a non abbassare la guardia, sia perché alcuni comportamenti ormai fanno parte del nostro patrimonio, lavarsi le mani, stare distanti, metterci una mano quando tossiamo. Questi ormai fanno parte di questo patrimonio. L'altro è quello dell'informazione. Inizieremo anche con quel servizio che avevamo preannunciato e che era rimasto fermo perché dovevamo considerare aspetti di privacy. Però ora partiamo con sul nostro sito c'è la possibilità di interrogare un esperto che risponderà a tutte le domande che la gente vorrà farci. Quindi se ancora avete qualche dubbio sul sito dell'Ordine dei Medici di Pistoia potete chiedere, vi sarà data sicuramente una risposta che qualche dubbio ve lo toglierà. Da un provvedimento. Ecco, e noi vi diamo appuntamento tutti i mercoledì con Tg60 Salute per affrontare tutti i temi della medicina con gli esperti della provincia di Pistoia. Grazie al dottor Montanti e grazie a tutti voi. Grazie a voi. Grazie.